Prima di partire A prescindere da un'adeguata manutenzione periodica della bicicletta, è sempre opportuno, prima di mettersi alla guida, controllare l'efficienza dei dispositivi. Freni, dispositivi di illuminazione, campanello e pressione dei pneumatici. La corretta pressione di gonfiaggio è indicata sul bordo del pneumatico. Una pressione non adeguata pregiudica la sicurezza di guida. E' inoltre importante essere posizionati correttamente sulla bicicletta. Una sella troppo alta o troppo bassa porterà ad un affaticamento precoce e ad una incerta conduzione. Per regolare in modo semplice l'altezza della sella, posizionare il tallone sul pedale e ruotare fino al punto morto inferiore. Se la gamba in tal modo risulta quasi completamente stesa, l'altezza sella è corretta. Il manubrio va impugnato saldamente ed il busto flesso leggermente in avanti. Adesso siamo pronti a partire.